Statistica e statistica, l'anno scorso la Roma c'era 65 punti in questa fase del campionato e la Roma c'era la 67, che ha stravinto il campionato, quindi è vero che la Roma arriva seconda, ma ti garantisco che molte società metropolitane potenti e importanti che hanno fatto anche investimenti rilevantissimi in questo ultimo calci mercato a gennaio, vorrebbero arrivare secondi come presumibilmente o auspicabilmente arriva a Roma o arriverà a Roma, è un ufficio perché devo dire che il Napoli è molto forte, quindi faremo veramente fatica a mantenere la posizione, ma noi cerchiamo...